il gentile occasionissima per di crescenzi o che risposta di marini ancora di crescenzi e la palla finisce rimessa laterale la blocca lancia subito avanti su attenzione perché 2 contro 1 occasionissima per il vantaggio passaggio sbagliato poi togulski ancora può calciare pallone sul destino prova 1 a 0 1 a 0 per i the players il gol di ivan togulski che batte diretto in porta colpisce il legno della trevezza poi togulski tacco tiro respinto dalla difesa peroni che adesso fa ripartire i suoi con pasquali 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 aveva intuito la direzione del tiro ferrari il calcio d'angolo the players benissimo se ne va poi zaccaria la tiene in campo zaccaria fa tutto benissimo così come ferrari poi possibilità per il doppio non riesce a calciare il numero 21 romanelli calcio di punizione il tiro e in due tempi ferrari la para zaccaria ci deve mettere una mano jacopini il numero 13 tiro libero battuto e che gran gol che vale il raddoppio dei the players un gol da cineteca questa alliance cap categoria junior 2007 poi il sinistro al volo marini la mette in angolo e salva il risultato tiro libero parte ferrari e marini la mette in calcio d'angolo non vuole farsi segnare e non c'è più tempo triplice fischio questa edizione dell'alliance cup se la giudicano i the players che vincono per 2 a 0 contro i roma boys con un gol per tempo siglati rispettivamente da togulski e bateriano grazie